Grazie a tutti. 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 Ti ringrazio Vito, saluti a tutti. L'idea del piccolo video era anche perché siamo in prossimità dell'ora di pranzo, volevo dare anche un po' una scarica per riconcentrarci un attimo. Devo dire al solito, re Italy, lo slogan dell'anno, l'anno della selezione mi sembra veramente molto azzeccato come titolo. In questo piccolo video quello che abbiamo un po' dato come indicazione a livello europeo è quali sono secondo noi, al di là delle sfide che tutti conosciamo, devo dire, ho assistito con grande piacere ai panel precedenti perché ovviamente le idee che si sono scambiate sono tutte quante quelle che poi guidano le nostre considerazioni e sono sottostanti le scelte di investimento che noi proponiamo. Però quindi su che cosa ci si può confrontare? Allora ovviamente si è parlato tanto di tassi di interessi alti, non ne eravamo più abituati per dieci anni, era facile investire con un ambiente così favorevole. Oggi finalmente sono ritornati a dei livelli che diventano più sfidanti, in qualche maniera giustificare gli investimenti che si fanno e quindi la selettività è l'elemento più importante. E oltre alla selettività io aggiungerei il tema della affordability, quindi ciò che è in grado di sostenere determinati canoni di affitto che si rivalutano su base inflattiva nel lungo periodo per generare un ritorno che è sottointeso rispetto alla scelta di investimento. Noi abbiamo indicato tre o quattro aree di focalizzazione, sicuramente si è parlato molto di residenziale, nelle considerazioni che sono state fatte prima della rilevanza di quella parte, anche e soprattutto per il mercato italiano e la mancanza di stock moderno, noi intravediamo in questo settore sicuramente un'area importante di focalizzazione, non solo quello per affitto ma anche quello specialistico all'interno delle asse class degli studentati piuttosto che delle case per le persone anziane. Sicuramente la focalizzazione anche sul mondo della logistica, soprattutto quella urbana, c'è un mondo di strutture che oggi non è sufficientemente potenziato rispetto alle esigenze crescenti, riteniamo che in questa area ci siano ancora una volta delle opportunità di investimento importante e nel video si fa riferimento all'obsolescenza, al fatto che la logistica, gran parte dello stock, ha dei livelli elevati di obsolescenza e quindi anche in questo la riqualificazione, intervento da un punto di vista di messa in pristino di asset esistenti, secondo noi offre delle importanti opportunità. Chiudo sull'ultimo tema, il debito, noi siamo anche nel settore dei fondi legati all'immobiliare, quindi sui finanziamenti all'immobiliare, le stime che noi abbiamo sono che in Europa circa 130 miliardi di euro di debiti verranno a schadenza nei prossimi cinque anni, in parte a seguito della svalutazione del sottostante, in parte per una progressiva riduzione della propensione delle banche a operare nel settore, circa il 20% di questo dovrà essere finanziato da parte di alternative lenders. Quindi crediamo che questo sia, in termini di opportunità, un'area di investimento interessante dove le competenze e le opportunità saranno particolarmente remunerative. Grazie. Grazie, allora io terrei questo spunto sugli alternative lenders per la fine di questo primo giro, così ne parliamo con Dante. Nel frattempo, se siete d'accordo, partirei in questo senso, quindi chiederei a Ofer se rispetto alle cose che sono emerse un po' dall'outlook di Savitz, o l'elemento ulteriore di cui parlava Giuseppe, c'è una convergenza di view, piuttosto qualche informazione, indicazione ulteriore. Prima grazie per avermi invitato. Mi permetto prima di entrare e solo fare una presentazione di 20 secondi. Nel primo di aprile 2022, il nostro gruppo abbiamo ceduto il 60% a Colleges International, che è la staccotata, che ci accompagna da 18 anni. E quindi siamo entrati in una piattaforma, sia europea sia, che gestisce circa 92 miliardi di asset under management. E quindi quando il mercato è cambiato abbiamo chiesto di fare un minimo di global, non solo noi, e abbiamo fatto una ricerca con 750 aziende nel mondo che sono asset managers, banche, clienti, eccetera, di cui magari più tardi, quando faremo una cosa un po' più lì, sono sette punti di cui Giuseppe ha già toccato, eccetera. Senz'altro il mercato è cambiato e quindi abbiamo un repricing in corso. Devo dire che il mercato italiano lo troviamo molto più maturo di anni fa, perché la crisi che è stata nel passato, questo è un ciclo, a mio avviso, del mercato diverso. Oggi abbiamo la liquidità, siamo più solidi. Il problema nostro principale sono i tassi di interessi. In Europa abbiamo un problema anche dell'energia, che soffriamo di più. E quindi questo crea problemi su finanziamenti, crea refinance. Tutti dicono, almeno il 60% dei nostri clienti, altri, dicono che questo li può creare un problema. E quindi adesso tutti cercano di tenere botta a quello che sta succedendo, aspettano a vedere chi è primo, che dice ok, non vendo più al 3,5, vendo a 4,5, eccetera. Poi ci sono asset class, che sono core, che vanno bene, value add, che va meno, retail value add, va ancora peggio e via. Ok, ma questo lo possiamo parlare magari, entrammo nel dettaglio dopo. Ok, grazie. Grazie, chiederei ad Andrea con lo stesso approccio, quindi intanto se c'è una convergenza di visione rispetto a quello che ci si è detti fino adesso. Sì, grazie, innanzitutto grazie anche da parte mia per l'invito e la partecipazione a Reitaly. So che, ecco, ci siamo detti e dopo ci sarà un panel specifico sulle asset class, quindi cerco di non entrare in merito alle diverse asset class, ma magari restare a livello più generale. Io quello che penso e quello che stiamo cercando di fare è di fare maggiore attenzione a quelle che sono le attività che vengono svolte all'interno degli asset in cui andiamo a investire. In altre parole, è fondamentale dal nostro punto di vista andare a investire in oggetti che siano utili per la collettività. Si fa una valutazione quindi dell'asset e dell'investimento dall'interno più che dall'esterno. cioè la struttura, noi spesso le chiamiamo infrastrutture anziché immobili, le valutiamo per quello che fanno dall'interno partendo dall'attività che viene svolta piuttosto che dalla struttura fisica, ecco, dall'immobile a cui noi siamo sempre stati abituati a prestare attenzione. Questo è legato al fatto che è fondamentale avere attenzione a quelle che sono le attività che vengono svolte, a come vengono realizzate e quindi a tutti i temi di sostenibilità, la strategicità dell'iniziativa anche a livello paese, al fatto che sono in linea con quelli che sono i marketrend globali, pensiamo all'invecchiamento della popolazione, cambiamenti demografici, cambiamenti tecnologici e via discorrendo. Questo perché rende l'investimento più utile e se l'investimento è più utile vale anche di più, perché significa che quando dovrò dismetterlo e uscire dall'investimento ci sarà qualcuno che lo vorrà e probabilmente me lo pagherà anche meglio, quindi ha un ritorno poi diretto su quella che è la valutazione finanziaria dell'investimento stesso, quindi le due cose sono strettamente collegate. In questo poi periodo specifico c'è un ulteriore elemento che in qualche modo anche migliora l'appetibilità di questo tipo di investimenti, perché di fatto si fa a investire in quelli che sono spesso e volentieri bisogni primari della popolazione, pensiamo a tutti gli investimenti nell'ambito sanitario ma anche nell'ambito della formazione, ma insomma ce ne sono anche tanti altri e quindi questo significa andare a investire in oggetti, per cui c'è una domanda anelastica e tendenzialmente sono quelli che quindi rispondono meglio anche a momenti generali, ecco, in cui ci sono degli shock macroeconomici come sta avvenendo negli ultimi due o tre anni. Grazie Andrea, lascio la parola a Emanuele. Sì, mi unisco ai ringraziamenti. È una domanda complicatissima perché nella sua semplicità di formulazione comunque prevede una strategia di medio-lungo periodo, cioè ricordiamoci che l'immobiliare non ha un arco temporale di un anno, quindi dire come scegliere di investire nel 2023 è un processo che deve essere nato molto prima. Purtroppo abbiamo avuto una serie di interruzioni alle nostre strategie, credo di tutti, ma più o meno del mondo, che ci hanno costretto a rivedere nel breve tempo le strategie e continuiamo a rivederle, perché il variare delle situazioni ci induce a rivederle. Quindi secondo me il vero compito e la vera domanda che ci dobbiamo fare non è tanto come investire nel 2023, e come interpretare i trend di cambiamento che ci sono in atto e che probabilmente avranno una ricaduta anche nella vita di tutti e inevitabilmente anche nel mercato nostro, perché poi alla fine ricordiamoci che noi costruiamo mura in cui si vive, in cui si lavora, in cui si diverte, in cui si compra, e quindi tutto il ciclo di vita lo copriamo e quindi i cambiamenti del ciclo di vita comportano i cambiamenti di trend e di strategia nostra. Allora, quando io vedo oggi le grosse società che si occupano della digitalizzazione del mondo che licenziano 22.000 persone, quando vedo chi produce macchine elettriche che è stato il primo che licenzia 10.000 persone, quando vedo che Amazon stessa licenzia 10.000 persone, cioè evidentemente ci deve essere in questo momento un qualcosa che sta cambiando che inevitabilmente influirà sulle nostre decisioni. Se Amazon licenzia vuol dire che sta accadendo il suo business, sta accadendo il suo business probabilmente la logistica, per carità, è ancora tutta da fare, ma nel lungo periodo non servirà più. Allora, l'interpretazione di questo, secondo me, è il vero punto su cui noi dobbiamo interrogarci e darci le risposte che poi, come tutte le risposte e come tutte le previsioni fatte negli ultimi 4 anni, sono sbagliate, ma dovremo cercare di valutarle, di monitorarle nel tempo per aggiustarle e per capire poi come continuare la nostra linea di strategia di investimento che sia coerente con quello che succede nel mondo. Quindi il tema è tutto sulla previsione dei trend. Capisco che non ho risposto, non ho detto niente. No, no, grazie. Vai Gian Piero. Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto io, ripartirei, chiedo al titolo dell'evento di oggi, l'anno della selezione, con una battuta. Speriamo che non diventi la selezione avversa e l'azzardo morale, perché se è così, diciamo, credo che il problema poi dilaghi e si espanda troppo velocemente. No, però direi che, colgo il suggerimento di Emanuele, un tema oggi, secondo me, fondamentale è quello di vedere quelli che sono i macro trend, che negli anni sono cambiati molto. Oggi, diciamo, tutti gli investimenti collegati a un concetto, diciamo, di demografico sono fondamentali, e quindi living e hospitality per derivata. Ci sono dei fenomeni molto forti, spinti, diciamo, che hanno avuto un'accelerazione enorme, diciamo, durante il Covid, quindi tutto il mondo, diciamo, che segue l'economia digitale, quindi la logistica. Vero che oggi assistiamo a queste notizie, io credo che non siano per cambiamenti strutturali dell'industria, ma a fenomeni di repricing all'interno delle aziende, questo è normale, se i costi salgono per tutti, tutti devono cercare di tenere determinate redditività. Poi, chi ne paga le conseguenze è sempre il capitale umano, ma questa è una lunga storia dell'economia. Altri fenomeni che sono fondamentali oggi è che qualsiasi progetto viene preso in considerazione, ovviamente deve avere un cosiddetto approccio ISG, forse su questo è meglio che siamo chiari, non è un filone di investimento, io credo che sia una regola, come tutti noi mai investiremmo un investimento che ha un MPV negativo, non si può rendere un MPV positivo senza un approccio ISG e questo non solo è un dovere. Poi vediamo che la Commissione europea ha iniziato a mettere i carichi da 90 sul tavolo negli ultimi giorni, ci sono degli atteggiamenti che cercano di chiudere a questo, ma credo che questo sia ormai un processo senza possibilità di ritorno e assolutamente doveroso, che porterà quindi a un'industria che deve adeguarsi molto più velocemente a questo che al digitale, che è un fenomeno ormai senza possibilità di ritorno. Quindi io credo che non è tanto il 2023, il 2023 è inutile che prima nei vari panel se ne è parlato abbondantemente, è un momento di freeze, tutti stanno alla finestra su a vedere come fa la BCE i tassi. Il tema più delicato è il tema del lending, che sicuramente è un tema importante. Anche qui il costo del debito sale e scende, questo è un tema di mercato. Il vero tema è l'attitudine delle banche italiane, ma devo dire anche di quelle internazionali, oggi a ridurre le proprie esposizioni per mantenere l'impegno in termini di distribuzione di dividendi, quindi sostanzialmente di rischio in totale su tutto. Qui però l'ISG aiuta molto perché voglio dire se gli investimenti hanno un DNA in quella direzione diciamo anche le controgaranzie delle banche aiutano molto ad andare a sviluppare continuamente progetti. Grazie Gian Piero, ti direi quindi che hai lanciato un po' l'intervento di Dante e anche chi meglio di lui può darci una view sotto questo profilo. No, assolutamente, secondo me mi raccordo a quello che ha detto Gian Piero, è chiaro che è una fase particolarmente complessa per quello che riguarda il credito bancario e secondo me in questa fase anche per andare a raccordare un elemento che ha toccato Giuseppe sarà fondamentale il ruolo degli alternative lender. Questo perché ci sono due tematiche in questo momento, chiaramente il debito bancario è molto più razionalizzato quindi non necessariamente arriva dove dovrebbe arrivare e questo crea un po' una dinamica di profezia autoverante, cioè vuol dire che tendenzialmente anche sulle esigenze di rifinanziamento c'è maggior pressione sulle banche e questo porta ad essere ancora più accorti nelle nuove erogazioni. Il tema degli alternative lender al momento è che c'è ancora poco volume di transazioni perché c'è ancora un gap abbastanza importante tra quello che è il costo degli strumenti che vengono offerti ai borrower e quello che è la disponibilità, ripeto, in alcuni diciamo settori proprio ci sono dei cash flow che tendenzialmente non reggono questo tipo di costo del debito, poi si può essere creativi come struttura finanziaria però c'è sempre un limite anche alla creatività. Dall'altro punto di vista il tema è quello che gli alternative lender per essere competitivi hanno bisogno molto spesso di avere comunque una forma di back leverage, come diciamo noi, quindi di avere a loro volta un finanziamento bancario, delle linee ripo, quindi ci sono tutta una serie di tematiche che stiamo vedendo nel mondo dei gestori internazionali, tipologie di strumenti che banalmente sono state messe alla prova dall'attuale congiuntura di mercato e quindi non consentono ai fondi di essere particolarmente competitivi. Un elemento che ha citato Offer è che a differenza delle precedenti crisi qui siamo in un universo in cui la liquidità continua ad abbondare nonostante che leggiamo un po' di withdrawal che ci sono stati da grandi fondi eccetera ma comunque la liquidità rimane importante e il megatrend, ripeto, ci sono dei megatrend positivi, c'è tanta liquidità che verrà messa sul mercato per quello che riguarda appunto gli strumenti di debito alternativi, i pre-equity, ibride eccetera e questo non farà altro che aumentare quantomeno la competizione tra gli alternative lender portando auspicabilmente giù il costo e quindi consentendo appunto di che si matchino un po' domande e offerte e che ci siano più operazioni. Nel frattempo auspicabilmente le banche avranno anche un po' razionalizzato i propri impieghi e quindi ho fatto anche un po' di cleaning di determinate partite e quindi si riuscirà probabilmente a reinnescare un meccanismo virtuoso per quello che riguarda il mercato del credito. Però per concludere secondo me l'alternative lender potranno fornire un innesco importante a quello che è la ripresa del mercato. Grazie. Ora io vi chiederei, l'altro giorno ci siamo sentiti per organizzarci e io ho assistito in un momento abbastanza interessante, hanno iniziato a parlarsi tra loro dicendosi cose che normalmente è difficile ascoltare quindi l'idea che abbiamo avuto è piuttosto che fare una domanda puntuale. Fate finta che di noi non ci sia nessuno e quindi anche rispetto a quello che ci siamo detti ragionate un po' rispetto a quelle che possono essere anche in linea con quello che è emerso, cioè sì siamo nel 2023 ma tipicamente l'investimento immobiliare è un investimento quanto meno di medio normalmente di lungo periodo su quali secondo voi al di là diciamo della contingenza possono essere temi di attualità piuttosto che risposto rispetto alla vostra esperienza per esempio Offer dicevano una view anche abbastanza globale quali possono essere dei temi di rilievo in un'ottica di lungo periodo ovviamente più aderente rispetto alle caratteristiche degli investimenti immobiliari quindi io vi lascerei se riuscite fate finta che noi non ci siamo e quindi adesso escluderei il calcio sì l'altro giorno abbiamo fatto una chiacchierata interessante in cui in realtà mettevamo un po' sul piatto quelle che sono le nostre riflessioni comuni o comunque ognuno per la sua parte ma insomma l'abbiamo messa a fattore comune rompo io il ghiaccio poi vi lascio una cosa che stavo notando è che c'è un po' una tendenza ma una tendenza di tutti i prodotti ad invecchiare rapidamente cioè se noi pensiamo alle macchine se pensiamo ai telefonini se pensiamo alle mode se pensiamo sono tutte cose che prima duravano n anni adesso durano sempre meno sempre meno perché c'è una qualità sempre superiore perché c'è una tecnologia sempre superiore perché c'è anche un gusto che evolve in modo molto più rapido perché ci sono sistemi di comunicazione più rapidi ecco tutto questo mi sembra che si stia calando anche sull'immobiliare e che è un elemento di attenzione importante cioè tutto quello che si sta facendo e si sta facendo tantissimo in Italia secondo me in Italia ma in Europa in generale sulla riqualificazione, su nuovi progetti, sulle cose eccetera bisogna stare attenti che non invecchi con la stessa rapidità con cui invecchiano tutti i beni merciologici oggi perché mentre un telefonino si cambia rapidamente un immobile ci vogliono anni quindi se abbiamo lo stesso ciclo di vita come invecchiamento di un bene commerciale rischiamo veramente di avere delle città che hanno dei trend fantastici di moda per poi crollare devo dire che noi in Italia siamo protetti da tutta la parte storica che regge sicuramente negli anni qualunque tipo di confronto però dobbiamo anche pensare quando costruiamo il nuovo che il rischio che diventa obsoleto in un tempo molto più rapido di come diventava prima c'è e questo potrebbe incidere sui nostri investimenti, sulle nostre attività, sui nostri ritorni sul tutto quindi questo secondo me è un tema che poi magari è sbagliato è veramente una riflessione a voce alta che non so quanto sia effettivamente reale però secondo me è una riflessione da fare vado io rispondendo al solito la chiacchierata aveva il calcio nella nostra cosa precedente quindi adesso abbiamo spuntato una parte importante di quello di cui abbiamo detto però il tema dell'obsolescenza sicuramente è un tema importante ed è un'obsolescenza che diventa molto più veloce nel manifestarsi questo era quello di cui parlavamo e secondo me è anche importante innestare su questo il tema dei trend parlavamo di residenziale guardavo le statistiche della crescita della percentuale delle famiglie che sono sostanzialmente una singola persona quindi gruppo legato a una singola persona ovvero il ritardo dell'arrivo poi dei figli che cambia un po' quella che è anche la morfologia del residenziale di come si deve adattare e magari anche dare una flessibilità diversa rispetto a come noi abbiamo immaginato in precedenza quindi l'obsolescenza non è soltanto obsolescenza nei materiali o nelle tecnologie l'ISG ci mette sempre nella necessità di valutarlo nel lungo termine ma è anche da un punto di vista delle abitudini delle consuetudini che si stanno mutando anche in maniera molto rapida leggevole percentuali l'incremento negli ultimi 7-8 anni di questa presenza di gruppi di singoli abitanti è aumentata in maniera molto significativa poi cambia ovviamente in funzione delle città vanno tutti questi trend contestualizzati perché le medie sottointendono che in realtà all'interno ci sono delle variazioni molto significative nel campione analizzato però ovviamente vanno in qualche maniera valutate nel dettaglio nelle scelte di investimento concordo con Emanuele l'immobiliare è di lungo termine quindi sbagliare significa in qualche maniera avere un problema che non è facilmente risolvibile Vado io ieri quando Emanuele ha sollevato nella nostra chiacchiera questa tematica diciamo che mi ha acceso una lampadina perché dal mio punto di vista almeno quello che un po' si è visto nei cicli è che i cicli diciamo in tutte le asset class sono diciamo un andare e tornare di eccessivo ottimismo ed eccessivo pessimismo probabilmente l'impressione che io ho è che queste tematiche e anche una certa frenesia che c'è nell'adeguarsi a determinati trend eccetera eccetera vada a desacerbare ulteriormente in un senso e nell'altro diciamo la volatilità diciamo delle tematiche di breve secondo me rende anche molto più difficile per quelli che sono in qualunque asset class per quelli che sono gli investitori diciamo quelli long only cioè non gli speculativi che cercano di entrare e uscire rapidamente ma quelli che cercano di muoversi lungo una linea dei mega trend andare anche a capire qual è il momento giusto dell'ingresso nel mercato per evitare di prendere il coltello mentre scende come dicono gli anglosassoni e soprattutto il rischio è che magari questi mega trend non siano lineari ma siano diciamo anche si stessi a zig zag quindi non solo la volatilità del ciclo ma anche dei trend che magari non sono dei mega trend ma sono magari delle mode per cui secondo me distinguere cosa è un mega trend e cosa è diciamo una non una moda ma diciamo così una fascinazione del momento secondo me è un elemento non semplice dal punto di vista degli investitori sì secondo me ciclicamente il vantaggio che abbiamo adesso è che ci facciamo delle domande cioè probabilmente in un passato anche abbastanza recente comunque seguivamo adesso forse anche questo periodo di discontinuità forte che c'è stato nei mercati ci induce a farci delle domande e quindi a vedere con più razionalità anche la distinzione fra ciò che è reale e ciò che è immaginifico almeno così mi sembra spero dai partecipate anche voi partecipo anche io allora secondo me prendo l'ultimo intervento perché credo che sia veramente fondamentale la distinzione che è stata fatta tra megatrend e mode perché sono i megatrend che ci devono guidare per capire effettivamente quali sono i servizi che in qualche modo devono essere offerti qual è il gap che dobbiamo andare a cercare di colmare a livello paese in generale insomma ecco io facevo la distinzione prima fra immobiliare e infrastrutturale se partiamo a livello di infrastrutture ma poi infrastrutture sociali di fatto sono in larga parte anche immobili l'Italia è il paese che ha il gap più ampio di tutta l'Europa occidentale tra investimenti pianificati e quelli realizzati ecco seguendo i megatrend e vedendo quelli che sono i servizi quindi quella che è l'utilità che possiamo dare con i nostri investimenti probabilmente ci difendiamo molto meglio da quelle che sono invece le mode che possono invece essere di più breve durata possono invece andare a penalizzare l'investitore e questo vale ancora di più ovviamente per investitori di medio e lungo termine quindi possono avere la pazienza di aspettare che poi quel megatrend poi si manifesti in tutte le sue forme quindi da questo punto di vista tornando ecco al discorso di prima è importante capire e analizzare gli investimenti dall'interno capire quelli che sono i megatrend e unire le due cose sì che poi basta pensare a quello che abbiamo vissuto anche nell'ultimo periodo dove le città a misura di giovani o viceversa la città a misura di anziani in realtà la città è vissuta dagli anziani dagli giovani cioè ci facciamo affascinare secondo me da degli slogan pensando che poi dobbiamo costruire le città tutte per i giovani cioè tutti i locali tutte cose fantastico ma poi alla fine abitano come dire tutte le generazioni in uno stesso luogo e quindi bisogna cercare di misurare questi luoghi per tutte le esigenze come del resto è sempre stato nella storia e mi sembra che il trend il megatrend la moda venga creata per creare un'aspettativa di mercato e non tanto per una valenza economica sottostante tocca a me toccando quello che ha detto Emanuele sono d'accordo ovviamente cerchiamo solo io sono una persona sempre ottimista ok e quindi cerchiamo solo di guardare cosa abbiamo passato c'era la pandemia in corso e tutti dicevano che gli uffici sono finiti non c'erano più uffici lavoriamo da casa tutte le case avranno terrazza eccetera le macchine volano e via così il resto non vuole entrare ma ognuno magari si ricorda di quello che è stato detto ed è qua il nostro principale core asset è quello che va per la maggiore 60-70% gli uffici vanno avanti ancora più forte ovviamente come diceva anche Gian Piero l'ESG è una stella polare che dobbiamo seguire tutti e questo è anche giusto se poi andiamo a vedere c'è ancora da fare molto con la governance ma questo maturerà anche a quello ma torniamo in Italia noi abbiamo 59.2 milioni di abitanti nel 2050 saranno 47.7 milioni solo un italiano su quattro avrà un figlio ok abbiamo un tsunami demografico in corso abbiamo 8 milioni di anziani di cui sono 4 milioni a casa che hanno bisogno di assistenza abbiamo un tsunami demografico presso i medici di famiglia che sono se vi ricordate se qualcuno conosce ancora mai visto ultimi due in suo medico di famiglia ok e quindi ci sono i trend noi a Milano che è la città principale per l'investimento in Italia e Roma aspettiamo con speranza che riparte perché ci sono 30 miliardi che guardano Roma e dobbiamo aiutarli arrivare e atterrarci giusto e quindi su Milano abbiamo se parliamo di asset class dobbiamo solo entrare nel merito abbiamo su 2 milioni e mezzo di cittadini 200 mila studenti quasi come Boston si prende i momenti delle percentuali quanti quanta ospitalità possiamo dare a questi studenti manca siamo al 5% dobbiamo arrivare a quindi questo asset class questo asset class che in Stati Uniti o in Paesi anglosassoni tutte le education è un asset class importante finanziano ti finanziano la laurea ti finanziano quello e quell'altro eccetera la logistica ha ragione Emanuele su Amazon o altri ma questi sono americani e quindi la tendenza loro di fare quello l'altro Amazon che conosco abbastanza perché abbiamo le loro sedi e ci lavoriamo un po' insieme hanno un milione e mezzo di laboratori e devono tutti stanno cercando sempre una crisi per pulire un po' i bilanci le persone che non osservano o qualche errore che hanno fatto investire in quello o quell'altro che non è andata bene Amazon ha investito in healthcare adesso ha chiuso tutta l'infrastruttura di healthcare perché hanno perso non è lo business per loro quindi io dico sempre dobbiamo guardare dove ci siamo messi e le asset class ci sono tutti ok e ricordiamoci l'Italia alla fine pesa 5-6% del mercato europeo ed è un bellissimo paese di cui ci sono mille cose da fare quindi quando arriva l'investitore se noi siamo ottimisti e riusciamo anche questo è un problema grande che diceva anche Dante con le banche perché oggi ci manca un aumento il finanziamento il costo diventa più alto noi con fondi attuali che devono essere finanziati andiamo in crisi e questo sì quindi però a mio avviso da qui a metà 2023 sarà così dopodiché il mondo si calma ok gli americani vediamo se adesso la Fed tira giù le tasse di interesse entrano in recessione o meno quindi noi siamo riflessi di quello ma siamo anche diversi perché siamo più piccoli a mio avviso e quindi e con il mercato maturo come abbiamo oggi anche meno vulnerabile di prima sono l'ultimo non so più cosa dire no allora sul tema diciamo dell'obsolescenza ovviamente è un tema che credo che concordiamo tutti oggi è impossibile poter ragionare sui nostri asset senza avere una visione aggiornata non alle dinamiche di oggi ma probabilmente a quelle che verranno domani io sono assolutamente convinto e sono inoserabile ottimista che al di là delle fasi transitorie credo che negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare ondate di restructuring ondate di repricing io oggettivamente non è che proprio vedo questi trend settimana scorsa ero in un giro con investitori internazionali che stanno tutti iniziando a ricredersi chiaro che sono tutti fermi in attesa di che cosa succeda a una view legata diciamo a una signora a BCE un signore alla Fed ma tralasciamo questi aspetti perché se no entriamo in dinamiche diciamo forse più complicate il tema vero è che se lo guardiamo sui mega trend sia Milano e spero molto velocemente anche Roma hanno una dinamica di prezzi sicuramente in salita quindi io mi sento di dire che Milano si sta avvicinando alle dinamiche delle grandi capitali europee e il nostro gap è ancora estremamente elevato pensate solo alla differenza di prezzi in termini di affitto e di valori al metro quadrato anche se li andiamo a depurare tra netti commerciali come facciamo noi a Parigi sono netti ma cambia poco ok e quindi questo sicuramente è una dinamica che spinge ma mi spinge perché oggi c'è una domanda che è nettamente superiore all'offerta abbiamo finalmente attratto e sempre di più attraeremo nel nostro paese quell'1% della popolazione mondiale che fa l'80% del PIL perché non dimentichiamoci mai che non è un tema di high network come lo consideriamo in Italia in una banca diventi un high network se hai un deposito sopra i 500.000 no diciamo è tutt'altro clima altospendente e questo sta portando a una richiesta di prodotti sempre più sofisticati quindi sono dinamiche che ormai è molto difficile invertire e speriamo che continuino in questa direzione questo porta a un processo di urbanizzazione sempre più spinto e a una spinta fuori dalla città come avviene tutto il mondo inevitabilmente dai redditi più bassi quindi assisteremo diciamo a un piano piano un'uscita diciamo dalla città o una città che cresce mettiamola così su zone limitrofe quindi il mood credo che sia estremamente positivo se noi guardiamo nel lungo periodo dobbiamo superare questo periodo e permettetemi una sfida che riguarda un po' tutti noi operatori della finanza il nostro è un paese che ha sempre ragionato su 10, 11 12 miliardi 12 qualcosa l'anno scorso anno di picco e quant'altro la vera sfida che tutti noi abbiamo credo che sia moltiplicare per due per tre le dimensioni di questo mercato non credo che ci sia uno spazio fisiologico per le singole asset class ce ne sono alcune sicuramente il residenziale è la più importante ricordo a tutti che se andate a vedervi i portafogli degli investitori istituzionali internazionali circa il loro il 30% dei loro portafogli sono allocati al residenziale in Italia credo che iniziamo a discuterne da un paio di anni è ancora probabilmente quasi tutto in sviluppo tralascio tutti i portafogli degli enti previdenziali che sono nei bilanci di alcuni fondi che prima o poi ovviamente secondo me diventeranno stranded asset soprattutto se la comunità europea va avanti con questa direzione che devo dire in parte condivido c'è un tema di industria secondo me molto delicata e cito un articolo che c'era ieri del presidente delle cooperative su solo 24 ore il problema che tutti questi adeguamenti fanno sì che non solo noi dobbiamo adeguarci a delle dinamiche ma tutta la filiera produttiva che gira intorno al real estate si deve adeguare io credo che oggi ci sia un grosso problema sulle imprese di costruzioni in Italia c'è di fatto un oligopolio di fatto su tutto quello che succede sopra i 40-50 milioni di lavoro e questo paese ha bisogno di imprese che crescano e che crescano molto velocemente e accompagnano questi investimenti che nei prossimi anni saranno assolutamente ingenti una battuta sul positivo e negativo secondo me anche l'essere positivo e l'essere negativi alla fine è una moda in realtà abbiamo dimostrato di essere bravi perché secondo me come industria abbiamo dimostrato di essere bravi di saper fare le cose di avere razionalità e pragmatismo di analizzare le situazioni e interpretarle anche nel lungo periodo dobbiamo continuare così dobbiamo farlo con serietà con attenzione con metodo e quindi necessariamente siamo positivi perché sapendo fare le cose dobbiamo essere positivi una battuta Emanuele capisco che il covid l'abbiamo proprio superato perché fino a qualche giorno fa dire mi sento positivo non lo dicevi mai e questo è un po' la riprova di quello che tu dicevi cioè che in realtà noi viviamo un po' dei condizionamenti pensando che siano il cambio epocale poi in realtà le situazioni si evolvono e si normalizzano quindi possiamo essere positivi senza essere più preoccupati direi e secondo me la buona notizia è che adesso non c'è più nessuno che vi separa dal pranzo grazie direi positivi ma anche consapevoli perché probabilmente affrontare un periodo di difficoltà e uscirne comunque in maniera non direi indenne ma largo circa vuol dire che si è lavorato bene prima faccio un'ultima battuta da avvocato quale sono mi interessava il discorso che aveva lanciato Dante mega trend e mode allora sotto questo profilo forse ci aiuta in Italia il fatto che le procedure amministrative siano molto farraginose e lunghe quindi uno magari riesce a tutto il tempo per capire no? su questo faccio fatica a darti la strada sta seguendo un mega trend o una moda perché la moda nei tre anni che servono per un cambio di destinazione d'uso passa al mega trend magari resta questo è un estremismo di positività questo sarei meno volevo contribuire anche io al clima ok allora io vi ringrazio per l'intervento e la condivisione dei pensieri e buon appetito a tutti mi permetto grazie